Si è svolta a Torre Vecchia Tiatina nel Parco dei Giovani San Carol di Palazzo Valigliani la cerimonia di premiazione della ventunesima edizione del premio Lettera d'Amore presentata da Nino Germano con il contributo degli attori Antonella De Collibus e Alessio Testitore. Oltre 500 gli elaborati prevenuti in questa edizione che ha reso impegnativo il ruolo della giuria composta da Tonita Dinisio, Massimo Pamio, Massimo Pasqualone, Lucilla Sergiacomo e Giuseppina Verdoliva. Una serata davvero speciale nella quale come sempre si è creato un clima di incanto come ha sottolineato l'ideatore del concorso nonché direttore del museo dedicato alle Lettere d'Amore Massimo Pamio. Ogni volta si crea questa atmosfera che veramente è straordinaria ed è creata soprattutto dai due attori Antonella De Collibus e Alessio Testitore e naturalmente dalla penna di questi prestigiosi scrittori italiani e internazionali. Due anni fa ha vinto la scrittrice Rita Elkayat Marocchina, l'anno scorso ha vinto la professoressa Stevka Smitran e quest'anno comunque Arnaldo Dante Marianacci e Antonio Allieva che sono due poeti abruzzesi ma la nostro Abruzzo come ieri sera ha detto l'editore Enrico Faricelli non ha nulla da invidiare alle altre regioni per quanto riguarda la cultura e noi speriamo che con la cultura riusciamo a fermare la mano dei criminali che ordiscono e bruciano il nostro paesaggio naturale perché bisogna difendere il nostro paesaggio naturale che crea bellezza e la bellezza dell'Abruzzo è quella che ci dà la forza di vivere e di amare. Un premio speciale è stato attribuito al direttore di Reteotto Carmene Perantuono con la seguente motivazione per la passione con cui ha coniugato il racconto e l'impegno in difesa dei valori più cari agli abruzzesi. Mi piace questa domanda così come mi piace la motivazione del premio perché il racconto anche un racconto professionale come il nostro è un momento di amore, di amore per la verità ma di amore anche per questa terra perché Reteotto così come la RAI abruzzese ha raccontato in questi anni momenti molto difficili per le nostre comunità dai due terremoti al maltempo penso a Enrico Piano, penso alle tante difficoltà che abbiamo vissuto negli ultimi due anni penso anche alle recenti notizie sugli incendi che ci chiamano al lavoro a volte anche in situazioni estreme e pericolose per i nostri lavori per i nostri colleghi che sono sul fronte soprattutto gli inviati quindi cerchiamo di fare questo lavoro ovviamente per la professionalità con il distacco necessario ma lo facciamo anche con grande amore e con grande preoccupazione a volte per le città come è successo per esempio con il terremoto, per la natura e anche per i nostri corregionali abruzzesi anche quelli che purtroppo non ci sono più, non ci sono stati più in questi ultimi mesi. Altri premi speciali sono stati conferiti all'ingegner Domenico Bellante ad Antonello Angiolillo, artista di Chieti affermato nel mondo della danza, del canto, della fiction a Daniele Venturi, fondatore e presidente dell'associazione Papa Boys l'associazione che fu fondata per esplicita volontà di Papa Giovanni Paolo II la serata di premiazione rappresenta l'evento clou di una serie di iniziative come ha sottolineato il sindaco Francesco Seccia. Questa per noi rappresenta l'evento culmine della nostra estate di eventi, la lettera d'amore all'inizio siamo partiti con una serata in cui c'era un concorso letterario poi piano piano, grazie anche a chi mi ha preceduto, alla lungimiranza dei sindaci che si sono vicendati prima di me, siamo arrivati adesso ad avere un festival quindi siamo partiti da una serata in cui c'era una premiazione poi il concorso piano piano ha assunto le caratteristiche di internazionalità siamo arrivati ad avere anche candidati premi Nobel come premiati per la serata l'8 agosto tradizionalmente per noi è la serata culmine in cui premiamo il vincitore del concorso lettera d'amore